e abbiamo i piatti e anche questa l'abbiamo finita allora vediamo un po cosa fa in televisione stasera dai vediamo un po allora niente 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 questo non mi piace Gino Gino se che è Maria e se che è cosa ci vediamo stasera in televisione e smanetto un po lì e smanettato ho già visto tutti i canali c'è niente c'è niente stasera proprio dai è possibile e no sai cosa ci vorremmo allora ho parlato con la con la mia amica la Franca Gino mi ascolti sì ecco allora lei praticamente non ha questi problemi lei tutte le sere si guarda quello lì cosa si chiama nesflix netflix netflix quello quello si guarda eh 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 dai Gino attivolo dai ma va costa un sacco di soldi ecco le bollette che sono arrivate adesso ma hai sentito i rincari e io pago eh io pago ma si vede che sei un vecchio eh Gino allora sempre la Franca mi ha detto che c'è un sito che si chiama Gamsgo e lì lo paghi meno ma non è possibile e poi veloce abbiamo un computer non lo usare solo per le robe tue vai a dare un'occhiata veloce va bene dai va bene dopo vado a dare un'occhio dai ciao facciamola contenta va andiamo a vedere ma boh con quello che costa sta roba Gamsgo qua va proviamo Netflix eh cos'è sta roba eh 3 euro e 67 al mese va e beh fischio a vedere stavolta la Maria ce l'ha ragione eh ma ma che roba è Disney Plus Tidal HBO eh la madonna guarda qua quanta roba vediamo Netflix eh oh proprio vero Un mese, 3,67€, eh, quasi quasi, però dovrei riuscire a capire come fare per attivarlo. Cioè, aspetta un attimo che vado a vedere quei due pirla là di Tutotech, che magari stavolta hanno fatto anche un video su sta roba. Bah, vediamo un po', eh. Cioè, andiamo a vedere quei due pirletta lì, cosa hanno fatto. Ringraziamo Gino e Maria, e anche la signora Franca che ha dato la tritta per poter scoprire. Questo sito, a parte gli scherzi, ci ha contattati Gamsgo e ci ha fatto questa proposta, cioè di far vedere il loro sito. L'abbiamo un attimo studiata, ci siamo informati per bene, all'inizio eravamo titubanti, poi effettivamente si tratta di un servizio veramente intelligente ed è legale. Cioè, troverete magari anche video dove dicono che è al limite della legalità perché si condividono account di Netflix, Amazon Prime, Disney+, eccetera, eccetera. Però al momento è tutto legale perché se no vi assicuriamo che i vari siti, i vari Netflix e quant'altro, avrebbero alquanto già fatto smettere questa pratica. Gamsgo ci ha rilasciato anche un codice promozionale da potervi fornire e che mettiamo nel link sotto, così almeno ne potete usufruire. Potrete avere uno sconto del 5% per l'attivazione dell'abbonamento di Netflix e del 2% per l'attivazione di Disney+. Tutto quello che dovete fare è inserire una vostra mail e poi nella parte sotto trovate l'invio del codice provvisorio. Una volta che cliccate, dovete confermarvi di essere un essere umano, dovete cliccare le immagini che riusciranno a cliccare e in tempo zero vi arriverà via mail un codice. Questo codice lo andiamo ad inserire qui dove c'è scritto codice di verifica. Possiamo tranquillamente accedere senza registrazione oppure se volete potete anche fare un accesso rapido senza questo passaggio del codice di verifica tramite Google, l'account di Google o Facebook. In questo caso noi accediamo senza registrazione. Subito ci fa notare che una volta che avrete attivato il vostro abbonamento, in questo caso noi ne abbiamo attivato uno in questo momento, quando un qualsiasi amico effettuerà un acquisto con successo tramite questo link che si trova qui sotto, si otterrà un bonus di 10 giorni sul vostro abbonamento e su quello del vostro amico. Questa è una delle promozioni che vengono fatte dal sito. Ok, entriamo più nello specifico di come attivarsi un abbonamento. Proviamo a prendere Netflix come esempio. Qui potete trovare tutti i dettagli dell'abbonamento. 3,67 euro al mese per ogni schermo. 5 persone condividono una sottoscrizione. Si può utilizzare sia sul cellulare, sul pc e sulla televisione. Definizione in 4K HDR e Dolby. Poi andando nella parte in basso, andiamo a cliccare sul tasto più. E qui possiamo scegliere se acquistarlo per un mese, 3 mesi, 6 mesi o 12 mesi. La scontistica varia ma non per cifre che potrebbero cambiare la vita. Insomma, parliamo veramente 3,67 euro al mese contro un 37,77 euro a 12 mesi. Quindi magari il nostro consiglio è di iniziare a farsi un'attivazione per un mese e portarla avanti così. Perché poi magari di card, ecco per esempio, è andato in vacanza e non volete utilizzarla tanto in vacanza. Magari per quasi un mese non lo utilizzate. Voi facendolo mese per mese evitate questo tipo di problematica. Selezionato la durata in mesi, potete selezionare se lo volete con uno schermo o per 5 schermi. Naturalmente 5 schermi il prezzo diventerà decisamente maggiore. Ma perché potrete usarlo, il vostro profilo, in contemporanea su 5 dispositivi, tutti insieme. Una volta selezionati e fatte le selezioni, potete inserire eventuali codici promozionali e buoni. Per esempio qui potrete inserire i codici che vi poneremo sotto in descrizione. Così potrete avere, ripetiamo, 5% sull'attivazione di un abbonamento Netflix e un 2% sull'attivazione di un abbonamento Disney Pass. E clicchiamo su Buy al pagamento. Nell'immediato vi si propongono tutti i metodi di pagamento. Dove potrete vedere che i pagamenti con Visa e Mastercard, quelli più utilizzati, magari consigliamo sempre per scopolo, magari di usare una prepagata oppure un conto secondario dove tenere proprio giusti i soldi per fare questi tipi di pagamento più piccoli. Tutti i pagamenti su questi circuiti non sono tassati in alcun modo. A differenza degli altri che hanno una tassazione del 3%. Una volta selezionato il metodo di pagamento, ci basterà cliccare Buy al pagamento, inserire tutti i nostri dati che ci richiede, cliccare su Paga ora e in automatico ci arriverà la mail di attivazione dell'abbonamento e una volta che andrete a riaccedere alla vostra pagina sotto scrizione, vi ritroverete la schermata che vi abbiamo già spiegato prima con tutti i dettagli che vi serviranno per entrare nel vostro canto. Un'altra nota significativa è l'assistenza veramente di questo sito, abbiamo provato di persona questa qui, la chat, abbiamo fatto anche domande, ci hanno risposto veramente nonostante il fruso orario in un minuto, sono stati veramente velocissimi, ma se avete ulteriori problematiche e volete contattarvi potrete aprire qui più una specifica di tipo lavorativo, non so come se vi è mai capitato al lavoro di aprire i ticket per delle problematiche che vi capitano sul computer. Ecco, qui è la stessa cosa. Potrete andare a creare il nuovo biglietto che è appunto la traduzione di ticket, andando a selezionare l'articolo quindi su quale tipo di prodotto avete il problema e l'oggetto diciamo del problema, potrete andare a fare anche un dettaglio di che cosa vi è successo e magari legare anche uno screenshot di quello che vi capita per avere appunto un'assistenza veramente veramente fatta bene. Eccoci qui ragazzi, vi abbiamo spiegato come funziona il sito Gams Go e riescono ad avere questi prezzi perché Gams Go acquista tantissime utenze dopodiché le rivende, quindi più sono le utenze più naturalmente Netflix piuttosto che altre piattaforme riescono a fare dei prezzi più concorrenziali e quindi noi di conseguenza ne possiamo godere. E poi anche condividendo uno stesso account non con un singolo utente ma con più utenti magari sparsi nel mondo dove la percentuale di capitare nello stesso istante a guardare la stessa identica cosa è veramente infinitissima. Infinitissima. Anche perché loro calcolano che vi abbinano per esempio con un cinese, un americano e quant'altro quindi che possibilità ci sono che mentre io sto guardando qui in Italia ad un'orario magari di cena un programma, un film o che cosa che possibilità ci sono che il cinese dall'altra parte del mondo stia guardando anche lui poche quindi si riesce ad usufruirne in maniera molto agevole. Ma comunque in ogni caso doveste usarlo e per qualsiasi motivo non vi doveste trovare bene comunque GAMSGO dà la possibilità del rimborso come vi abbiamo fatto vedere prima tranquillamente. Inoltre ribadiamo l'assistenza fatta veramente bene e rapida quindi insomma andate veramente a spendere circa 3 euro, 3,60 euro come abbiamo visto prima per poter sfruttare una miriade di contenuti in questo caso con Netflix ma anche con Disney+, Prime Video, Tidal, insomma tutti quei servizi che vi abbiamo fatto vedere prima. Quello che vi consigliamo noi è come diceva prima Marco un mese alla volta. Fatto questo entrate dentro, seguite le nostre negazioni, inserite il nostro codice sconto che trovate qui sotto in descrizione e vi ricordiamo che metteremo anche il video più tutte le varie promozioni che ci potrebbero arrivare sul nostro canale Telegram Tutto Tech. Tutto Tech 1. Quindi vi aspettiamo anche su quella piattaforma. Mi raccomando cresciamo anche lì. Qui siamo arrivati praticamente a 9.000. Mancano un centinaio. Su Telegram siamo proprio appena partiti e ce ne mancano circa 9.000 per arrivare a 9.000. però si può crescere anche di lì. Insomma non è che vi spammiamo, vi mandiamo 10.000 messaggi al giorno. No, anche perché, cosa importante, bravo Marco, mettiamo noi personalmente le offerte. Andiamo a vederle noi fisicamente ogni giorno e quando c'è qualcosa di valido ve la postiamo. Non stiamo lì in automatico a mandare 57 messaggi con le offerte. Bene ragazzi, io direi che per questo video è tutto. Se avete domande fatele tranquillamente qui sotto nei commenti. Vi risponderemo al più presto come nostra consuetudine o perlomeno quando riusciamo. E io direi che ci vediamo al prossimo video e date un'occhiata a GAMS GO! Ciao! 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 Ciao!